Amici di Youtube ben trovati da Marco Liguri in questo video parliamo di un triste lutto per il mondo del cinema nonché per il mondo delle serie tv a 91 anni ci lascia un grande attore un attore che ha fatto la storia soprattutto a cavallo tra gli anni 60 e anni 70 questo in foto era Jack Jing all'anagraf Jack Jingoff attore versatile polivalente lo ricordiamo al cinema per aver preso parte a film come il cobra e lo straniero senza nome di Clint Eastwood lo ricordiamo anche per aver preso parte a serie tv come hey team e l'undicesima ora laddove interpretava il dottor Graham il secondo canale di Marco Liguri ricorda Jack Jing attore americano scomparso a 91 anni grazie a tutti